E' mai esistita la società perfetta? Una società in cui tutto funziona senza alcun problema? Per l'uomo medievale questa società esisteva davvero. E non sto parlando del papato o dell'impero, dei guelfi o dei ghibellini. Non sto parlando nemmeno di una società degli uomini. Sto parlando del regno delle api. Scopriamo insieme dopo la sigla. Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Se siete interessati al Medioevo e alla letteratura medievale iscrivetevi al mio canale, commentate, condividete, mettete mi piace e cliccate sulla campanellina per non perdere i prossimi video. Oggi parliamo dell'ape, un animale così piccolo ma allo stesso tempo così importante per la salvaguardia dell'ambiente. Sappiamo bene come l'ape sia un animale molto importante per la vita sull'intero pianeta, ma purtroppo molto spesso ce ne dimentichiamo. Questa importanza però era ben radicata nell'uomo medievale, fino ad arrivare a una vera e propria venerazione nel Medioevo per questo insetto. L'uomo medievale infatti adorava l'ape e l'ha studiata nei minimi dettagli fin dall'antichità. Non a caso l'ape forniva prodotti di estrema necessità per l'uomo. Pensiamo al miele, un alimento senza scadenza, si conservava all'infinito. Oppure la cera con la quale si facevano le candele con cui illuminare la notte. L'ape è quindi un animale molto presente nei bestiari medievali e molti degli autori dei bestiari dedicano molto spazio all'ape, non il solito capitoletto striminzito, ma dei veri e propri trattati di apicoltura. L'ape in molti casi forma una classe a sé. Non viene messa tra i vermi come molti insetti, ma tra i volatili, anzi i volatili minuti. Il fisiologo greco stranamente non parla dell'ape, ma ne parla l'altra grande fonte di ispirazione per i bestiari medievali, cioè le etimologie di Isidoro di Siviglia. In questo testo troviamo molte informazioni che ritroviamo anche nei successivi bestiari. Isidoro infatti ci dice che il termine ape deriva dal fatto che è a pedibus, cioè senza piedi, in quanto si credeva che le api nascessero appunto senza zampe, ma che si sviluppassero in un momento successivo. Dice inoltre che le api nascevano dai cadaveri dei bovini. Si pensava infatti che percuotendo con un bastone le carcasse dei vitelli uccisi usciva dal sangue e da questo sangue nascevano dei vermi che poi si trasformavano in api. Ma attenzione, solamente se si percuotevano i vitelli nascevano le api. Se invece si percuotevano i cavalli nascevano gli scarafazzi, mentre se si percuotevano i muli nascevano i fuchi e se si percuotevano gli asini nascevano le vespe. Per Isidoro di Siviglia le api erano animali molto laboriosi, dediti alla produzione del miele, e vivevano in case costruite con una maestria straordinaria. Ogni ape aveva la sua celletta. E queste case erano delle sorte di castelli governati non da una regina, ma da un re. Un re con un proprio esercito, che muoveva battaglie, che scappava davanti al fumo e si irritava con la confusione. Tutte queste nozioni vengono riprese nei successivi bestiari e rilette in chiave cristiana, facendo diventare l'ape non solo un modello per l'uomo. L'ape era infatti virtuosa e pura, ma anche per la stessa società degli uomini. Uno dei capitoli più ampi e complessi dedicati all'ape lo troviamo nel bestiario di Oxford. Anche in questo bestiario l'ape nasce senza zampe e vive in una dimora molto complessa, governata da un re con un proprio esercito. E nonostante vi sia un re, in questa società delle api vige il comunismo. Dice infatti che fra tutte le specie di animali, l'ape è l'unica che ha in comune tutto quanto. Hanno una parola comune a tutte, abitano in una stessa dimora, quindi in un'unica patria. Il lavoro è in comune a tutte, le attività sono in comune a tutte le api. Ma ciò che eleva ancora di più l'ape, agli occhi dell'uomo medievale, ha uno stato di perfezione, è il fatto appunto che non si accoppiano, ma nascono dalle carcasse dei buoi. L'ape quindi è un animale puro, non è fiaccato dalla libidine, non prova i dolori del parto. L'ape quindi è l'animale perfetto, laborioso e puro. E un animale perfetto forma anche una società perfetta. Infatti, quando nascono le api, si uniscono da sole in comunità ed eleggono un re. Ma pur essendo sottomesse a questo re, sono di fatto libere. Le api infatti si attengono ad un sentimento di devozione verso il loro re. Il re ha la precedenza nelle decisioni. E sono contente di servirlo, perché lo hanno scelto loro. Infatti, il re in questo caso non viene sorteggiato, non viene estratto a sorte, perché altrimenti subentra il caso. Ma viene eletto l'esemplare di ape più bello e più grande. Diciamo che viene eletto mister alveare. Il re delle api è un re benevolo. Pur avendo il pungiglione, non lo utilizza per somministrare la giustizia. Il re delle api diventa una sorta di emblema del re perfetto anche per gli uomini. Deve essere giusto e benevolo. Infatti, chi ha il massimo potere deve essere moderato nel punire. E questo re è così venerato dal suo popolo che le api che disubbidiscono alla sua legge si pentono e si puniscono da sole, colpendosi con il proprio aculeo. Le api quindi si sottopongono da sole alla pena capitale pur di rimediare ai propri errori. Fanno arachiri con il proprio pungiglione. Questa devozione per il proprio re non ce ha nessun popolo, neanche i popoli con le leggi più dure. Nessun ape osa uscire dall'alveare per procacciare il cibo se prima non è uscito il re e non si sia messo alla testa del volo. Poi il bestiario di Oxford continua narrando la vita dell'alveare, un po' come la vita di un feudo. Ogni ape infatti ha il suo ruolo e il suo lavoro da svolgere e lo svolge diligentemente. C'è chi esce alla ricerca di cibo, chi invece costruisce l'alveare, chi sorveglia l'alveare. Ci sono le api che osservano il cielo per vedere se ci sono nubi, se sta arrivando la pioggia. Altre api formano la cera ma tutte quante lavorano e nessuna insidia le fatiche dagli altri, nessuna si procura di più con la rapina. Tutte le api lavorano senza sosta e sono sempre pronte a difendere il proprio re, anche con la vita. Infatti quando pungono qualcuno muoiono nell'ardore della vendetta. Le api quindi sono devote al proprio re, come dovrebbe essere nella società perfetta secondo l'uomo medievale. Ma quando il re è perduto le api abbandonano l'alveare e non sanno più che cosa fare, perché era il re che dirigeva i lavori e quindi scappano e vanno alla ricerca di un altro alveare. Molti altri bestiari riprendono quanto abbiamo detto finora, senza aggiungere granché. E quasi tutti gli autori sono molto affascinati da questo animale. Una delle poche che non è così tanto affascinata dalle api è il Degarda di Bingen. Dà infatti una descrizione molto sterile sia dell'ape che del miele, dicendo che il miele non è che faccia poi così tanto bene, soprattutto se uno è grasso. Mentre l'ape è utile per curare le fratture e gli slogamenti. Si prendono infatti delle api morte dall'alveare e le si cucciano in una benda di lino. Dopodiché si frigge questa benda nell'olio d'oliva e la si mette sull'arto dolorante. Dopo poche applicazioni non si avrà più dolore. Nonostante questo l'ape è sempre stato nel medioevo un animale molto venerato, molto amato e non poteva non colpire anche la fantasia di Dante. Nel canto 21 del paradiso infatti Dante utilizza una metafora che richiama le api e lo fa ovviamente per presentarci la schiera, il tripudio di angeli che trova nella candida rosa. Gli angeli qui vengono descritti come una schiera d'api che passa di fiore in fiore e insapora il proprio lavoro. D'altronde quale similitudine è più azzeccata se non paragonare l'ape e la sua società perfetta agli angeli. Spero che questo video vi sia piaciuto e fatemi sapere nei commenti quale altro animale dei bestiari medievali volete conoscere. Un saluto da Caliburn e ci vediamo nel prossimo video. Grazie a tutti.